salve a tutti signori io sono lorenzo e questo è il mio canale espertone benvenuti prima di iniziare vi chiedo cortesemente di iscrivervi al mio canale di attivare la campanellina e di sostenermi con un bel like bene oggi come vedete siamo nella mia auto nella mia twingo elettrica ed è proprio di questo che andremo a parlare non andremo a parlare solo di auto elettriche ma soprattutto del discorso di caricare l'auto elettrica a casa perché questo argomento perché questo argomento che nessuno ne parla ma dove c'è una sicurezza in campo e dove abbiamo bisogno di approfondimenti bene vi faccio questo video perché dopo aver visto varie scene di incendi di auto elettriche impianti che prendono fuoco eccetera 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 mi chiedo quanto ne sappiate o quanto ne sappiamo tutti quanti per quanto riguarda la ricarica elettrica a casa non è una cosa così scontata non è detto che tutte le prese vanno bene per ricaricare la nostra auto elettrica non è detto che possiamo comprare quello che vogliamo e possiamo fare quello che vogliamo quindi di cosa andiamo a parlare allora io ad esempio prima di comprare l'auto elettrica ho fatto l'impianto fotovoltaico ho messo a norma tutto l'impianto e ho fatto e questa è la cosa più importante un impianto per la ricarica dell'auto elettrica sapendo che domani andavo a prenderla non ero ancora convinto al cento per cento ma dedicato solo per la ricarica dell'auto elettrica perché questo perché abbiamo bisogno di un impianto che sia adeguato per la nostra ricarica allora la ricarica dell'auto elettrica come sapete facciamo due conti così veloci quando io accendo il forno di casa sono intorno ai 2000 watt ora di consumo 2000 watt ora il consumo del ferro da stiro del forno della lavatrice di quello che volete ecco di tutti quei grandi elettrodomestici la un frigo consuma 100 150 watt per dire quindi gli altri siamo 2000 2200 la lavastoviglie quando scalda l'acqua 2000 quella lavatrice 2003 2004 dipende dalla lavatrice quindi quelle sono i consumi intorno ai 2000 watt bene adesso io sto caricando la mia twin elettrica questa che sto facendo l'ho messa a 6 ampere sempre cosa sono sono 6 per 220 mi fa mi sta dicendo quanto sta consumando in questo momento lei sta consumando intorno ai 1300 watt ok mi ci vorranno sei ore per ricaricarla ma più lento carica la mia auto elettrica e più dura dopo anche il discorso della batteria sembra una cosa assurda ma immaginate di riempire una bottiglia d'acqua con un rubinetto che butta a pieno che fa tutta quella schiuma e l'acqua non si deposita bene e immaginate di caricare la stessa cioè di riempire la stessa bottiglia di acqua con una goccia dopo l'altra lei si riempie sempre bene e fino all'orlo questo è un esempio pratico per farvi capire più o meno come funziona la batteria quindi più lentamente carichiamo meglio è ma più più lento carichiamo più tempo resta acceso il caricabatterie più tempo c'è il problema del suo riscaldamento dei cavi allora adesso io vi dico perché non me lo ricordo con parole mie cos'è l'effetto joule l'effetto joule che cos'è il passaggio di corrente in un conduttore in particolare in un registore ha come effetto un riscaldamento del conduttore che cosa significa che voi immaginate il vostro cavo di corrente non so se avete mai sentito dopo quando fate il diciamo ci asciughiamo i capelli con il phon si sentite il cavo è caldo perché perché il cavo che ci sono dentro lui consuma 2200 watt i cavi sono adatti per quel consumo del nostro phon logico che se noi andiamo a prendere un filo di un ambajour che ha una sezione 0,5 0,1 un millimetro e ci collego un phon non va bene perché sono troppi fini i cavi quindi adesso ci ho fatto più o meno una tabellina per ricordarmi se abbiamo fino a 16 ampere che è la presa che normalmente abbiamo a casa nostra non so se avete mai visto le prese nostre sono le biprese sono da 10 ampere che sono quelli con gli attacchi più piccoli o quelle da 16 ampere quelle con gli attacchi più grandi 16 ampere per 220 volt significa che io posso mettervi al massimo un carico di 16 ampere per 220 quindi fino a 3,7 kilowatt sarebbero 16 ampere e lì posso usare una sezione dei cavi che normalmente a casa nostra abbiamo da 2,5 millimetri quadrati mentre se come il caricabatterie che ho fa fino a 32 ampere quindi fino a 7 kilowatt io ho predisposto la mia centralina che posso collegare fino a 7 kilowatt poi a casa abbiamo fino al massimo 6 kilowatt ma magari metto qualcosa in più e che sia più grosso in quel caso lì ho portato tre cavi di sezione 6 millimetri quadrati oltre a portare ma non è da prendere da una presa normalissima dove arrivano i cavi da 2,5 poi partire con i 6 bisogna un fattore direttamente con un magneto termico che sarà da 16 ampere o da 32 ampere questo servirà già se lui si surriscalda fa saltare il diciamo così come tipo di salvavita scatta giù e quindi si blocca tutto quanto bene quindi molto importante di non andare a prendere una presa qualsiasi che poi si surriscalda e può anche fondersi e far partire un incendio ma di prendere un carico di fare una linea solo e dedicata per l'impianto di ricarica della nostra auto elettrica questo non ve lo diranno i concessionari questo non ve lo diranno da nessuna parte perché già c'è un terrorismo sulle auto elettriche impressionante qua potrebbe fare ma è una questione di sicurezza fatevi fare l'impianto da un elettricista da una persona che sa quello che sta facendo e che è certificata per fare queste fa dei suoi calcoli quindi non colleghiamo su tutte le prese che troviamo per casa ma controlliamo che dentro almeno ci sono dei cavi di sezione buona poi io ad esempio ho un caricabatterie che dopo vi faccio vedere che ha un sensore all'interno della temperatura quando lui arriva a 70 gradi ok 70 75 gradi più o meno lui cosa fa fa partire il sensore il nostro impianto si blocca mi darà un segno AI che quindi è molto caldo fino a quando non si raffredda tutto l'impianto quando l'impianto andrà sotto i 60 gradi riparte la ricarica per la nostra auto elettrica quindi noi possiamo dormire sonni tranquilli adesso mi si vuole sei ore sono le sette di sera benissimo io lascio anche tutta la notte tanto se salta cioè se la temperatura sale lui blocca in automatico tutto e questo è un prodotto di qualità molto alta è un prodotto che anche se cade per terra il monto sopra con la macchina magari non so sto facendo elettromalza l'ho lasciato per terra perché ho lasciato il cavo lì per terra il monto sopra non c'è nessun problema è ignifugo è impermeabile tutto quello che può servire altra cosa molto importante non usate prolunghe collegatelo direttamente alla presa perché abbiamo fatto una linea dedicata poi mettete una prolunga magari con cavo di sezione da uno e mezzo non va bene e questa è un'altra cosa molto importante non usate prolunghe non usate adottatori sciucco che magari sono di qualità bassa e possono fondersi io mi ricordo avevo collegato il forno mio di casa più la lavastoviglie sulla stessa presa quindi con due sciucco diverse ma con un cavo che arriva da due e mezzo non va bene dopo circa un anno di utilizzo vado a vedere la presa era fusa per fortuna non è mai partito un incendio perché ero in cucina e in cucina i mobili sono tutti di legno quindi attenzione a calcolare a fare tutto quello che serve prima di prendervi l'auto elettrica o il caricabatterie prendetevi un carica di qualità spendete qui 100 euro in più il carichino oppure predisponete tutto per una wall box anche le wall box hanno dentro all'interno dei sensori che possono quando sentono la temperatura che sale bloccano tutto quanto le wall box possono essere anche programmate eccetera 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 però l'importante è fare l'impianto che sia norma l'impianto adeguato e che sia tutto perfetto eccoci qua volevo farvi vedere appunto il mio dispositivo che l'ho collegato qui la marca vi lascio il link in descrizione comunque se volete acquistarlo un prodotto di qualità molto alta con dei tasti fisici non in tasti touch che di solito non funziona ma guarda dei tasti fisici possiamo andare a regolare l'amperaggio 6 ampere 8 ampere 10 13 e 16 ampere fino al massimo 16 ampere questa è la scatola diciamo dove ho fatto tutto quanto vedete l'impianto con il magneto termico a 16 ampere più un altro da 32 sopra questa è la presa asciuco industriale quindi possiamo andare tranquilli con il tubo con i cavi di sezione da 6 mm dedicati proprio per per la ricarica dell'auto elettrica penso che abbiamo fatto un bel lavoretto e almeno possiamo stare tranquilli in sicurezza bene signori se il video vi è piaciuto mettete un bel like vi lascio il link in descrizione se volete acquistarlo questo prodotto che secondo me che è anche sponsor di questo video e lo grazie a loro mi è venuto fuori questa idea di fare questo video che è un argomento di sicurezza è un argomento molto molto importante bene mettete un bel like iscrivetevi al canale e attivate le tasse le notifiche grazie a tutti e arrivederci ciao ciao ciao